Dal teatro della cooperativa di Milano un graditissimo ritorno su teatro.online Alessandra Faiella, ben ritrovata Alessandra, ciao e Valerio buongiorno, ciao Valerio che sono qui in scena fino al 12 di novembre con lo spettacolo Coppia Aperta Quasi Spalancata ho detto bene, 14 novembre, pardon con lo spettacolo Coppia Aperta Quasi Spalancata tratto da un testo di Dario Fo e Franca Rame allora, il Galateo impone di iniziare dalle signore, quindi la prima domanda è per Alessandra quali sono le dinamiche della coppia protagonista? sono le dinamiche eterne del rapporto tra una donna tradita e un uomo che ripetutamente la tradisce ma che nel momento in cui lei finalmente riesce a liberarsi, a lasciarlo e a trovare una tradizione la relazione lui va fuori di testa quindi un classico, un evergreen e purtroppo qualcosa che non modifica nel tempo questo testo che è un testo degli anni 90 ma che purtroppo è tuttora strettamente attuale ecco Valerio, quali sono le caratteristiche del tuo personaggio? a parte essere un traditore seriale la caratteristica del mio personaggio è che io credo che sia una persona infantile assolutamente infantile che trova scuse si appoggia sempre a qualche cosa che dovrebbe in qualche modo giustificare quello che lui sta facendo sostanzialmente ma veramente come un bambino sostanzialmente ma un bambino ma un bambino cretino un bambino cretino però i bambini a volte sono molto molto meglio degli adulti naturalmente sanno meno fingere, giocano magari però nel gioco sono anche molto più veri invece questo è proprio è un porfie, come si può dire diciamo un poraccio è un poraccio proprio sì, assolutamente Alessandra, ti hanno definito una delle regine del far ridere facendo pensare quanto ti fa piacere questa definizione? che cosa ti piace? che cosa invece non ti piace del tuo personaggio? ma il mio personaggio mi piace mi piace è un personaggio forte è una donna inizialmente vittima di questa manipolazione perché poi questo tipo di uomo è un grande manipolatore un grande narcisista che in qualche modo continuamente inganna mente per ottenere i suoi scopi però sebbene questa donna, Antonia la protagonista sia inizialmente vittima di queste manipolazioni a un certo punto finalmente riesce a liberarsi da questo gioco psicologico e a ribellarsi e lo fa fino in fondo e quindi secondo me è un grande messaggio per tutte le donne che vorrebbero liberarsi da questi soggetti non ci riescono e questo spettacolo in qualche modo può essere un incoraggiamento ad avere il coraggio di prendere in mano la propria vita quindi devo dire è un personaggio che mi piace era il personaggio che faceva Franca Rame e non a caso lei l'ha scelto per tanti motivi probabilmente l'ha scritto soprattutto lei e quindi insomma per me è anche un onore interpretare un personaggio che è stato interpretato da una grande attrice da una grande donna qualcosa che invece non ti piace del tuo personaggio? ma potrei dire che non mi piace il fatto che per tanto tempo è rimasta invischiata in questa storia perché come sono fatta io avrei truncato molto prima però vabbè siamo tutti diversi quindi non c'è nessun giudizio giustamente è un personaggio anche diverso da me e per un'attrice è anche una sfida interpretare personaggi che non aderiscono completamente alla propria personalità nella sua diversità ammiro comunque questa presa di posizione magari tardiva ma che comunque arriva anzi si dice che nella finzione si interpretino meglio i personaggi opposti a proprio carattere che sì lei diciamo vabbè qui devo parlare del testo il testo è un testo che mi dà agio di liberare tutta quella vis comica che mi appartiene quindi sono grata a questo personaggio perché sicuramente è un personaggio estremamente divertente però è anche una donna forte quindi per certi versi ci sono degli aspetti che mi corrispondono per altri meno in ogni caso è un personaggio che dà la possibilità ma credo anche a Valerio il suo personaggio ci dà la possibilità di giocare in scena è una farsa con un momento molto drammatico che Renato Sarti ha voluto tenere proprio per per segnare che queste situazioni sono divertenti sono farsesche sono buffe ma c'è un dramma sotto e questa cosa Renato ha voluto a sottolinearla con l'unica scena drammatica che però è molto esemplificativa di qualcosa che può andare oltre siamo in chiusura dell'intervista volete invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo domanda diritto finale noi ci divertiamo e questo è importante perché credo che riusciamo anche a divertire il pubblico essendo comunque uno spettacolo che come diceva prima Alessandro un po' fa parte anche del suo percorso di attrice di artista fa anche pensare questa è una cosa molto bella riuscire a divertirsi però dicendo anche delle cose importanti e a volte anche molto scomode scomode e per certi versi anche forse tragiche per certi versi grazie a tutti